Buongiorno a tutti, da Francesco Pirrone, presente qui insieme a Roberto da Finale e da Tilio Castellucci, che sono alla console per quanto riguarda questo collegamento video, per alcune informative su tutti i lavoratori parasubordinati, con riferimento in particolare all'aspetto che si riferisce a profili assistenziali ed assicurativi che vengono erogati direttamente dall'Inps o dall'Inail e che non hanno un riferimento diretto da parte dell'istituto a livello di gestione, ma che presuppongono però una domanda diretta da parte di ciascun interessato per la correlata attivazione. La prima cosa quindi da dire è che il soggetto istituzionale che è deputato a derogare la prestazione, nonché la domanda al soggetto stesso a cui va risvolta, è l'Inps. L'Inps che voglio ricordare ha un numero verde per tutti coloro che dovessero collegarsi allo stesso che è 803-164 e per chi dovesse collegarsi mediante un cellulare, una rete mobile 06-164-164. Questa informazione che può essere di carattere generale invece sarà portante perché rispetto agli altri canali che sono quelli internet via web, quindi tradizionali, possono essere ampiamente sostituiti invece dal canale interattivo audio appunto mediante il canale del contact sender, avendo però con sé il PIN. Allora, incominciamo a dare alcune informazioni di carattere generale, soprattutto che cos'è questo PIN sul sito www.inps.it troverete sulla home page come richiedere il PIN. Il PIN chiaramente è un codice di accesso dove identifica ciascun iscritto e consente così di beneficiare di tutte le prestazioni della stessa IMS, nonché anche prossimamente dell'INAIL, dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia. Ma andiamo per ordine in maniera tale da darvi le specifiche per ciascun profilo. Allora, per quanto riguarda in particolare questo PIN è completamente, diciamo così, guidato dalla struttura che troverete direttamente in sezione all'interno del portale dell'INPS, sia a livello di richiesta, sia a livello di eventuale smarrimento, oppure di trasformazione del PIN che voi avrete in prima battuta rispetto a quello dispositivo, PIN dispositivo, che significa che è una firma forte, vale a dire una identificazione più importante. In caso eventuale di necessità di avere direttamente questo PIN con celerità, ci si può rivolgere a qualsiasi sede INPS sul territorio nazionale e verrà direttamente consegnato all'iscritto il PIN dispositivo, quindi direttamente il PIN forte. Dico questo perché, ripeto, questo è il sistema importante a che voi possiate poi colloquiare direttamente con l'INPS presentando pure l'istanza in mancanza del PIN e il rapporto termina esclusivamente nel momento in cui si possa porre un quesito ma non si potrà andare oltre a perfezionare la domanda stessa. Allora, andando sulle specificità di ogni profilo, diciamo subito che per il personale parasubordinato io darò ora delle indicazioni sia al personale collaboratore coordinato e continuativo, sia agli assegni di ricerca. Ambe due si trovano sulla busta paga in effetti l'indicazione di una trattenuta INPS. Quella trattenuta INPS insieme ad una trattenuta INAIL determinano la fruizione delle prestazioni che diremo di seguito ma che, ripeto, ancora una volta, vengono attivate esclusivamente sulla richiesta da parte di ciascun iscritto e utilizzando il canale telematico. Io consiglio quello del contact center, i numeri che, ripeto ancora una volta, 803-164-06-164-164. Con l'occasione voglio ricordare che il contact center dell'INPS è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 senza soluzione di continuità e il sabato esclusivamente dalle ore 8 alle ore 12 e 30. Uno dei primi profili, e quindi hanno diritto a ambe due, sia gli assegnisti di ricerca, sia i collaboratori coordinati, assegno nucleo familiare. Per i dipendenti, il personale subordinato classico, tempo determinato, tempo indeterminato, la domanda viene effettuata all'interno dell'ente di ricerca da cui vi sto parlando. Per invece il personale parasubordinato, l'unico soggetto a cui ci si potrà rivolgere per ottenere questa indennità è esclusivamente l'INPS. Che cosa significa quindi? Che ciascuno di voi dovrà compilare un modulo che è predisposto all'interno già in autoistruzione del portale INPS, ovvero mediante il PIN chiamare direttamente il numero verde e procedere a una identificazione diretta e ci sarà direttamente l'operatore telefonico che aiuterà direttamente con la compilazione online il singolo iscritto. La terza alternativa, non la cito neanche, è giusto per non farvi spostare più di tanto, vale a dire è presentarsi presso una sede INPS. L'assegno nucleo familiare viene concesso esclusivamente allorquando vi sono dei requisiti di reddito di un certo tipo che vengono definiti anno per anno e che diciamo subito in maniera discriminante che il numero minimo dei componenti deve essere di due persone. Non vado oltre in merito perché, ripeto, il canale diretto di collegamento è quello del canale telematico, ripeto, anche quello telefonico. Interlocutore, quindi, INPS, erogatore sarà direttamente INPS, non passa assolutamente nell'ambito del prospetto paga di ISPRA. Altro aspetto è l'indennità di malattia. Allora, quando un dipendente si ammala, è vero che il rapporto di collaborazione coordinata di assegnista di ricerca non determina assolutamente, e questo lo voglio sottolineare, una rigidità per quanto riguarda un rispetto dell'orario di lavoro, ovvero di qualsiasi altro profilo che è classico per i tempi determinati, ovvero indeterminati. L'importante è che venga definita il risultato della prestazione, le modalità con cui vengono realizzate sono esclusivamente disciplinate all'interno dello stesso progetto che determina l'erogazione di quella prestazione. Sull'indennità di malattia, di nuovo, l'interlocutore unico e l'erogatore della relativa indennità di malattia è esclusivamente l'IMPS. In questo caso, simile a quello che dicevamo prima, bisognerà mettersi in contatto con la sede, sempre col numero telefonico, lo dirò fino alla noia, ma giusto per rammentarlo, 803-164, previamente, chiaramente dovrà essere supportato da un certificato medico. Ecco, su questo profilo il rilascio del certificato medico avviene nella stessa maniera del personale a tempo determinato o indeterminato, ovvero ci si reca presso il proprio medico curante e il medico curante trasmette telematicamente all'IMPS il certificato medico chiamato appunto online. Questo è l'unico sistema di collegamento a che possa l'IMPS verificare effettivamente il presupposto per cui viene erogata l'indennità, ovvero lo stato di malattia. Stato di malattia che può essere, tra virgolette, accertato da parte del datore di lavoro o dalla parte dell'IMPS mediante le visite fiscali, anche per i lavoratori parasubordinati. Vige il principio in base al quale viene a determinarsi un controllo per quanto riguarda lo stato di malattia, che chiaramente deve essere supportato appunto da una visita medica da parte del personale sanitario dell'IMPS. Per quanto riguarda la corresponzione delle indennità, questa avviene esclusivamente a carico e con le modalità previste dall'IMPS. Similmente avviene per l'indennità, per degenza ospedaliera, vale a dire, allora quando vi è un ricovero e quindi si interrompe il contratto, ciò non determina però una perdita della copertura previdenziale. Cosa si deve fare anche in questo caso? Bisogna prendere contatti appunto mediante il già nominato contact center e presentare in questa maniera, che è la parte diciamo più semplice, direttamente l'istanza online all'IMPS. Ripeto sempre, voi avrete la possibilità di un contatto diretto con la sede centrale INPS utilizzando il vostro PIN accanto al dato che sicuramente avrete a propria conoscenza, vale a dire il codice fiscale. Vengono richiesti normalmente questi due dati, il codice fiscale, il PIN e per riscontro esclusivamente di carattere generale identificativo, date luogo di nascita o luogo di residenza. Ma questi ultimi sono opzionali, quello che è importante avere con sé è il codice fiscale e appunto il PIN. L'indennità di regenza ospedaliera dà diritto alla copertura previdenziale, come appena detto, e in effetti ciascuno di voi questa attività assistenziale la paga. La paga in quanto nell'aliquota previdenziale contributiva appunto a cui viene sottoposto per due terzi il datore di lavoro e per un terzo il collaboratore, ovvero l'assegnista, in effetti c'è una quota pari allo 0,72% che costituisce il riferimento tale per cui si dà a diritto alla prestazione citata. Inoltre vi è l'indennità di maternità, anche per i lavoratori parasubordinati vi è questa indennità, questa indennità che di nuovo, ripeto, vi annoierò, ma è così, l'unico interlocutore, l'unico interlocutore IMSS, quindi dovrete mettervi in contatto con la sede IMSS, con i canali che abbiamo detto prima, con le medesime modalità, anche qui è prevista l'erogazione di tutte queste indennità, con l'occasione di nuovo per rammentare, che non sono mai erogate mediante busta paga da parte del committente, cioè il datore di lavoro, ma esclusivamente e direttamente mediante il canale IMSS. L'indennità di maternità che viene poi supportata anche dall'indennità per concedo parentale. Questa differenza dell'indennità di maternità che tutto sommato ha una similitudine, anzi diciamo è uguale per quanto riguarda la copertura al personale a tempo determinato e indeterminato, vale a dire per i 5 mesi, solitamente i primi 3 e i successivi 2 mesi al parto, ma obiettivamente con la flessibilità può essere modificato questo periodo, fermo rimanendo che il periodo totale deve essere di copertura pari a 5 mesi. Per l'indennità per concedo parentale invece si emerge la diversità rispetto al personale a tempo determinato e indeterminato, a dire quello che viene comunemente definita estensione facoltativa al 30%, c'è una copertura esclusivamente per 3 mesi. Tutte queste richieste di prestazioni devono essere effettuate comunque entro termini che sono brevi. Vi è anche con l'occasione da rammentare che tutti questi riferimenti che sto esplicitando sono presenti anche sul portale www.imps.it. Da ultimo, e in questo caso invece c'è una differenziazione tra collaboratori coordinati e continuativi e assegni di ricerca, che ha dato adito anche a profili di polemica, ma che discende da aspetti di natura di copertura finanziaria, che dovranno evidentemente prima o poi però trovare una forma di equità, è quella che prima veniva definita. Indennità, una tantum, che oggi si chiama indennità discol, col nuovo Jobs Act, ma in particolare diciamo più comunemente viene definita come sarebbe poi l'indennità di disoccupazione. Sì, in effetti i collaboratori coordinati e continuativi, quindi purtroppo al momento gli assegnisti di ricerca non possono fruire di questa indennità per esplicita previsione da parte dell'Inps, il riscontro tra l'altro potete averlo anche personalmente chiamando appunto a quei numeri, al numero verde e al numero di rete ordinaria già indicata da parte dell'Inps, in effetti viene erogata a patto di alcune prescrizioni. La prima prescrizione che viene chiesta quindi al personale, quindi collaboratore, esclusivamente, quindi al personale collaboratore, coordinato e continuativo, è che questa indennità venga richiesta entro 68 giorni dal termine del contratto. Un termine successivo determina la prescrizione. Ma qual è un effetto però che deve essere preso in considerazione? Che l'indennità parte in effetti dall'ottavo giorno successivo alla cessazione, per cui è chiara l'esortazione al personale potenzialmente fruitore di fare la domanda al più presto, mediante il solito canale che avevamo appena citato, quello web, io ripeto a consigliare quello telefonico 06 164 164 numero verde 803 164 da rete fissa, oppure presentarsi presso la sede Inps. In questo caso, comunque, oltre alla domanda appunto della prestazione di disoccupazione, quindi definita appunto indennità DISCOL, con la nuova identificazione, viene richiesto per un presupposto, l'iscrizione all'ufficio, quello che era prima di collocamento, quindi ai centri di servizi per l'impiego, per accertare lo stato di disoccupazione, però richiesta anche da parte della stessa Inps, in effetti un'autocertificazione in tal senso, per cui appena di nullità Inps è facilmente verificabile questo dato perché incrocia i flussi inclusivi nelle proprie banche dati, non può determinarsi alcuna forma di rioccupazione nel periodo di erogazione dell'indenità medesima. Ciò determina che nel caso in cui ci sia appunto fortunatamente la rioccupazione, deve essere data immediata comunicazione sia al centro dei servizi per l'impiego, sia all'Inps, dove determinerà pertanto la sospensione dell'indenità medesima, non essendocene appunto più le condizioni di erogazione. Per quanto riguarda altri aspetti, è l'occasione per rammentare che sia gli assegnisti di ricerca, sia i collaboratori coordinati, sono coperti dall'assicurazione infortunistica, appunto troverete sulle vostre buste paga una trattenuta che appunto riguarda l'Inail. Questa determina chiaramente, oltre che la copertura infortunistica nel caso vi sia un evento in tal senso all'interno della struttura presso cui si lavora o per cui si è comandato, mi riferisco al caso delle trasferte o delle missioni, anche al caso di infortunio in itinere. L'infortunio in itinere in particolare è l'infortunio che può occorrere, ad esempio per un incidente stradale, nel percorso più vicino casa-lavoro. Chiaramente dovrà essere poi sufficientemente documentato e dovrà essere presentata in termini brevissimi, massimo 48 ore, al proprio datore di lavoro tutta la documentazione inerente, vale a dire verbale, di pronto soccorso, nonché una dichiarazione con la quale viene esplicitato le modalità con cui è avvenuto l'evento infortunistico. Io per il momento sono qui a salutarvi, ripeto ancora una volta questo era un momento di collegamento correlato al fatto che vi sono queste prestazioni assistenziali e assicurative che sono gestite direttamente dagli entierogatori, quindi rispettivamente l'Inps e l'Inail, che l'amministrazione quindi non ha alcun effetto di riferimento, se non quello di pagare i contributi, ma era opportuno che vi fossero esplicitate queste informazioni, poiché è emerso da vari colleghi che si sono presentati presso il mio ufficio, dove richiedere informazioni ulteriori sotto questi aspetti. Io vorrei ringraziarvi e vi giungo a tutti il saluto da parte mia di Attilio Castellucci e di Roberto D'Affina. Grazie tanto. Grazie. 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 Grazie.